è la sua e dai! mi hanno armato un best a San Giuseppe eh, ancora due poi vabbè, hanno fatto i rossi castagni ancora è? le 11 no, le 11 manca l'ora del compleanno vabbè ragazzi io vanno a lavorare, chiamo il giro eh come ne chiamo il giro? ma se tu fai il compleanno quando io do a lavorare che ci posso fare? vabbè tu hai ragione allora salutele salutele compà e prezzo fammi un altro giro e fammi un altro giro giro la slitta dai su no no, io vado che tanto è stato bello tanto mica sarà l'ultimo no speriamo che non lo speriamo Giuseppe aspetta un attimo Maria ha fatto la torta Matteo porta un po' sarà buona questa torta e l'ha fatta Maria grazie a tutti 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 guarda che sbapa mi sa che sei rifugata il presente ma chi no ma sempre queste fotografie sempre queste cose e poi io lo sapete tutte queste luci ma chi ha la bolletta? i tedeschi i tedeschi i tedeschi tos tos ciao amore quando hai operati? e quando arrivano i regali? andiamo facendo non ti preoccupare ok ma chi ha fatto il Brody? oddio pensavo che ha cagato sotto non lo so vai a vestirti la Babbo Natale signore a cambiare andiamo al divano va signore oh 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 è arrivato il Brody Natale signore A me sembra suo marito Questa mica ne riesce il cazzo Ah ragazzi, mi hanno detto che quest'anno sei stato bravo Guarda quanti regali ti ho portato Questo non è il babbo natale, questo è il nonno L'avevo detto io Pianco l'erba, eh Che cucchetto va? Qui c'è rimasto solo un muschio Guarda sotto la pegua Se credi intensamente nello spirito del natale Tutto si può avverare Anche babbo natale Non è vero, non esiste Signore, io non ci sto capendo niente La che vuole la vita Mi accettano da E' Natale È Natale È Natale È Natale È Natale È Natale Quanto vera con Gesù È Natale È Natale È Natale Buon compleanno Gesù Buon compleanno Gesù Buon compleanno Buon compleanno Buon compleanno Gesù Le intrescenze di canapa presenti nel video sono a scopo puramente ornamentale e con livelli di THC inferiore ai limiti consentiti come regolamentato dalla legge 242 del 2016 per un uso corretto leggere il foglietto illustrativo Buon compleanno Gesù